E' sempre così, ogni giorno. Il sole fa aprire i mille occhi della città e tutto si mette in movimento. Ovunque l'esercito degli uomini scende in campo per affrontare la battaglia quotidiana. Le battuglie degli automobilisti corrono alla conquista del posteggio. E' sempre così, ogni giorno. E come ogni giorno, un piccolo esercito scende in campo. Un piccolo esercito che invade le scuole affrontando le prime fatiche della vita. Alle otto suonerà la campana e per quattro ore dovranno stare fermi, seduti nei piccoli banchi dimenticando i giocattoli. Qualche piccolo si fa accompagnare ancora dall'amica dei primi anni, ma presto la dimenticherà e le compagne di scuola saranno le sue amichette. Anche l'esercito delle donne scende in campo affrontando il lavoro. In attesa dell'autobus il solito scambio di confidenze. E' sempre così.